Ancora Pollizzi qui in svista arbitrale, ancora c'è questa bella palla di Falofagone, attenzione c'è Di Primio, Di Primio ha il rigore, in sinistro, in rete, in rete, Mirko Di Primio, prima rete in maglia bianco-azzurra, il vantaggio della zero stile, il vantaggio della zero stile, il vantaggio della zero stile sull'MDF, esplode la gioia dei sostenitori, dei bianco-azzurri ed è il vantaggio, le nostre telecamere sono coperte appunto, dalla gioia del pubblico femminile soprattutto, rivediamo la freggezza di Mirko Di Primio, è andato lui, è partito da dietro, gran palla!